La raccolta, allestita nella sala d'ingresso della Casa Museo Parmigiani tra il 1925 e il 1928, si compone di abiti maschili e femminili, scarpe, borse e ornamenti italiani e francesi nel XIV secolo e dei secoli dal XVI al XIX, confezionati con preziose stoffe tessute e ricamate in seta, oro e argento. Gli abiti, gli accessori, i manichini e le vetrine d'epoca sono state oggetto di un intervento di manutenzione e restauro promosso dai musei civici di Reggio Emilia e finanziato dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.